...amico della nostra trasmissione che è Siga Master System, sai che esplosa questa febbre dei videogiochi e pensa che oggi ti regalo una cosa che ti permetterà di ricreare magari sullo schermo come per un gioco tante situazioni di gioco che tu stesso hai vissuto, guarda adesso proprio qui, guarda cosa ti regalo io pensa ti regalo la console, 8 bit di memoria e grafica eccellente, 3 giochi già in memoria per giocare da subito io non ho fatto ingegneria, non voglio niente, guarda che semplicissimo da giocare, fra l'altro c'è anche la pistola Light Feather se c'è la pistola puoi giocare, potrai giocare al gioco del Safari, pensa, ricordate che ci sono fra l'altro delle cassette oltre al calcio come Super Tennis e il World Grand Prix per giocare con le automobili e poi ci sono ben 130 i giochi che potete trovare nel catalogo quindi c'hai da divertirti, tua moglie si divertirà e vedrai che scoppierà anche in casa tua la mania per i videogiochi tra l'altro pensate che proprio in offerta promozionale, mi dicono gli amici della Siga Master System in questo periodo ma per breve tempo ci sarà anche oltre alle cassette che ti ho citato la cassetta Azec Adventure e anche la pocket bag che le nostre due amiche Maria Teresa e Michela indossano quindi dove potete trovare, la vuole anche Boldi questa qui poi la daremo anche a lui io sono già prenotato, sei già prenotato su questo perché mi piace questo, come si chiama? Siga Master System come si legge? si dice come si legge esatto Massimo è pericolosissimo quando entra con i nostri amici tra l'altro lo potete trovare nei migliori negozi giocattoli, nella giocheria nei negozi giocheria, quindi un appuntamento veramente da non perdere con Siga Master System e i suoi video grazie, adesso vediamo la videoclip che vi abbiamo preparato The Sega Master System Bingo! Sì ragazzi, con Siga Master System farete centro come? Comprando la console Siga Master System ti danno tre giochi incorporati la pistola, la cassetta di Aztek, lo zainetto ecco perché Siga Master System è l'occasione dell'anno dite la verità ragazzi, Siga Master System è troppo, troppo, troppo forte parola di Walter Zegna Siga Master System è un prodotto giochi preziosi Grazie a tutti!